La parte Mattia Vasco della Sampdoria contro i vestitati che sono i finalisti della Sampdoria Sports Cup, quindi Golden Boy e Sergio, perché loro utilizzeranno la Sampdoria, non so chi abbia la Sampdoria blu, quindi la Sampdoria blu, blu cerchiato di Mattia, i bianco fasciati invece sono di Sergio Golden Boy, mi parte la Sampdoria blu con Regini, poi Pavlovich con sesso di palla, poi l'inetti ancora per Muriel, attenzione, profondità, Muriel, Muriel dentro all'area, 1-1 Muriel, miracolo di Viviano, ancora l'inetti, prova il tiro, fermato da Regini, poi partire Torreira, passaggio per Cagliarella, intercettato, quindi ancora Torreira di Blu, e le difinte, la palla per Alvarez, poi Barretto dentro l'area, l'alto corto, con apertura e Viviano, un altro miracolo, il portiere della Sampdoria, Bianca, si feste molto bene, ancora una volta, poi il palleggio, devi vedere l'avversario, ma riesce a vincere in contrasto Pavlovich, ma adesso c'è Vodacco, il gol della Sampdoria Bianca di Fabio Guagnarella, gran gol di Tacco, aspetta Barretto, il pallone per lui, errore di Barretto, può ripartire Guagnarella, c'è un po' di spazio, sbaglia però, ha recuperato bene ancora una volta Barretto, poi sbaglia nuovamente Barretto, il pallone è incredibile, ancora un miracolo di Viviano, vediamo se riesce a rimastere a buona azione offensiva qua, a San Blu, gran palla qui, è arrivato, giocatore della Sampdoria, ancora Viviano, salva la situazione, migliore di campo per i bianchi, Viviano, attenzione, Muriel, Muriel, uno pari, Sampdoria, un gol credo di Regimi, il Regimi vero, no, il gol di Longworth, e vedi che ha subito il gol, con la Moviola, 45esimo più 3, stranamente arriva a Tungola, attenzione a Guagnarella, Guagnarella, e c'è il 2-1, è arrivato la situazione, la Sampdoria tu questa volta che ha segnato, no, no, mai, mai, io per la Sampdoria, sempre l'ho morto, prima devo dire, subito dopo, Guagnarella, è passato Bianca invece l'ha segnato, Guagnarella, ora partita di salita per i bianchi, Pratt, recupera la palla per i bianchi, ancora Dodò, Muriel, fuori l'area, passaggio dentro per Sikra, palla per Guagnarella, esce Viviano, miracolo, doppio, e poi Schell, da parte di Miezi, che va con la Dubdance, ancora qui, tifosi della Sampdoria, Maglia Blu che esulta, non ho capito il motivo, Pavlovich prova ad avanzare, Pratt, Guagnarella, gran numero di Guagnarella, se ne va a Guagnarella, Guagnarella ha avuto conto dell'area, cerca un compagno dentro, gran palla, e c'è il gol, questa volta di Regini, con Luis Muriel, quindi passa in vantaggio, la squadra ufficiale da Sampdoria, la squadra di Regini, Sampdoria in sports, tutto può ancora succedere, si porta in avanti la Sampdoria bianca, Guagnarella, poi Muriel, cerca un numero di troppo, ancora Muriel, la palla resta lì, Sampdoria, il pareggio, tre pari, Guagnarella, Alvarez, lancio lungo a cercare Guagnarella, c'è spazio per il quaglia, palla lì dietro, Barreto, dietro per Muriel, ancora Barreto, grande azione, super gol, inizio di Giambi, andiamo stretto, Barreto, non sento niente, trova il gol del 4-3, non sento i soldati, come mai? Purtiere, crossi in mezzo, ancora Coro, non sale ancora il portiere, quindi rimane in porta, Purtiere, attenzione, il gol è incredibile, da parte di Schick forse, Schick al novantesimo, guadagna il pareggio, arriva il gol al novantesimo, no, Rigori no, sono di dieci, guardi, no, tira, chi è che ti? Sampdoria a Sampdoria, blu, tiro c'è il palio di Guagnarella, palla Miliano, Guagnarella di nuovo contro Miliano, questa volta è per i bianchi, e c'è il gol, bianchi in alcaggio 1-0, Muriel, come si fa le varie queste? Sconto tra cloni, attenzione a Muriel, dei blu, prende la ricotta, questo Pasqua Regini che stava vedendo questo rigore, attenzione, non sbaglia, Muriel dei bianchi, prova il cucchiaio, Miliano non ci casca, 1-1, io e il Cis, questo invece è l'olio, lo sfontano e il portiere di Guagnarella, e c'è il gol, rimane immobile, in questo caso il portiere, Fernandez, e sbaglia tutto, vantaggio per il blu, 2-1, con l'altro Fernandez, la centrale, gran volta, e c'è la Barreto, Barreto non sbaglia, Barreto che tiene in partita i bianchi, è il momento del mancino di Alvarez, guidato da Lombolf, non deve sbagliare, Alvarez non sbaglia, e vincolo in blu, la squadra ufficiale della Sampoia, un applauso ovviamente per questa bellissima sfida, tra Sampoia e finalisti.